Musica Buonasera, ben trovati con l'appuntamento di informazione del Tg Max. C'è la cronaca in apertura. Vasta operazione oggi dei carabinieri del Noe di Pescara contro il traffico illecito di rifiuti ferrosi in tre regioni. 13 gli indagati per l'operazione che ha portato al sequestro di 7 impianti tra Abruzzo, Marche e Puglia. Per tutti anche l'accusa di associazione per delinquere. I dettagli nel servizio. Simulavano la trasformazione dei rifiuti ferrosi in materia prima secondaria, ma in realtà questo processo non avveniva nel rispetto della normativa. Per questo motivo 13 persone sono state denunciate e 7 autodemolitori sono stati sottoposti a sequestro. Nell'ambito di un'indagine avviata nel 2008, a partire dal sequestro al porto di Pescara di una nave con un carico di 800 tonnellate. A condurre l'operazione tra Abruzzo, Marche e Puglia, i carabinieri del Noe di Pescara guidati dal comandante Fiorindo Basilico. Nel 2008 in particolare abbiamo sequestrato il carico di una nave nel porto di Pescara che era diretta tramite la società albanese in Grecia. Quindi questo rifiuto che veniva fatto passare per materia prima e secondaria era destinato ad una fonderia greca, ma di fatto avrebbe inquinato l'aria. Quindi a livello ambientale la cosa non era accettabile. Abbiamo sequestrato il carico, da lì abbiamo cominciato le attività. Abbiamo ricostruito documentalmente due carichi. Uno precedente era stato effettuato al porto di Ortona e abbiamo ricostruito questa associazione a delinquere tra varie ditte, varie aziende, soprattutto localizzate a Chiediscalo, in provincia di Pescara anche, nonché nelle Marche e in Puglia. Abbiamo ricostruito questo traffico illecito di rifiuti e tutto l'aspetto documentale che testimonia come facevano ad esempio il girobolla per far apparire che questo rifiuto fosse stato trattato, che loro avessero autorizzazioni quando invece non le avevano o le avevano non sufficienti o non complete, che avevano camion che erano autorizzati a trasportare i fiuti quando invece non avevano queste autorizzazioni. e non hanno sostenuto questi costi che sono ingenti per avere dei camion autorizzati a trasportare i fiuti, per avere autorizzazioni, per pagare le fideiussioni che servono per trasportare i fiuti, tra l'altro questa volta all'estero. Per le 13 persone coinvolte, la denuncia è di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Cinque imprenditori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti per reati tributari dopo controlli a tappeto della Guardia di Finanza della Compagnia di Vasto che nel primo trimestre dell'anno ha svolto 19 verifiche e 24 controlli su imprese professioniste. Le attività ispettive hanno fatto emergere ricavi e compensi e vasi superiori a 13 milioni di euro, costi indeducibili per circa 2 milioni, IVA e Vasa per 2 milioni e 100 mila euro, IRAP e Vasa pari a circa 700 mila euro. Voltiamo pagina, la sanità è sceso a 7 milioni e 156 mila euro il disavanzo sanitario abruzzese. Lo ha comunicato oggi il commissario d'acta per la sanità in Abruzzo, Gianni Chiodi. Per la prima volta nella storia, ha detto il Presidente, la Regione si è presentata al tavolo di monitoraggio del Ministero dell'Economia con un risultato straordinario. La sanità abruzzese inizia a vedere la fine del tunnel dopo anni di debiti e sperperi. Il disavanzo complessivo, infatti, ha toccato i minimi storici, 7 milioni e 156 mila euro per tutto il 2010. Ad annunciarlo, con una certa soddisfazione, il commissario per la sanità Gianni Chiodi. Per la prima volta, ha detto, l'Abruzzo ha ottenuto dal tavolo di monitoraggio del Ministero la certificazione di un grande lavoro di risanamento sul fronte finanziario e il riconoscimento di aver avviato su questo settore un percorso virtuoso che porterà a grandi risultati. Noi oggi stiamo a un livello di disavanzo che è il più basso della storia della Regione Abruzzo, 7 milioni di euro a fronte di una spesa di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Questo fa capire che stiamo andando verso il fatto di evitare l'iceberg, stiamo cominciando a girare questo transatlantico. La Regione Abruzzo si appresta nei prossimi anni ad avere una sanità di grande qualità a costi sostenibili per i cittadini e quindi ritengo che il mio obiettivo a questo punto debba essere, dopo aver fatto delle riforme strutturali sulla sanità che i prossimi anni vedranno i risultati in termini qualitativi, quello di prima della fine legislatura di ridurre le tasse agli abruzzesi. Sul fronte estrettamente tecnico il vice commissario Giovanna Baraldi ha fornito alcuni dati legati alle azioni del piano di rientro. Il monitoraggio del tavolo del Ministero ha spiegato, ha riguardato due aspetti di tutte le azioni programmatiche del piano, dall'ospedaliero a riabilitativo, dall'emergenza urgenza, fino ai laboratori di analisi. I dati positivi registrati dal tavolo di monitoraggio libereranno risorse per 356 milioni di euro, a conferma che in Abruzzo è partita e si sta consolidando una riforma strutturale di grandi dimensioni. Resta ancora alta però la criticità della spesa farmaceutica, ma su questo fronte si sta già lavorando per sensibilizzare i cittadini e medici. I sindacati medici, le associazioni mediche, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, stiamo lavorando tutti insieme, credo che nel breve vedrete un piano e credo che quest'anno sarà un anno di svolta molto importante e incomincieremo a dare risultati anche su questo tema e allinearci rispetto alle altre regioni. E torniamo a parlare del caso di mala sanità della donna che in centro storico a Lanciano due giorni fa ha dovuto attendere per 40 minuti i soccorsi ma da Atessa. Il soccorso in città deve arrivare entro 8 minuti dalla chiamata secondo le linee guida nazionali. L'ospedale di Lanciano non ha ambulanze né personale per svolgere il servizio che è esternalizzato e i tagli alla sanità sembrano aver colpito anche questo servizio. All'interno di una città con servizio di emergenza urgenza l'ambulanza deve arrivare sul luogo dell'incidente entro 8 minuti che salgono a 20 se la chiamata giunge da fuori città e quanto stabiliscono le linee guida nazionali in materia. Il caso di Corso Roma a Lanciano dove la signora Avì ha atteso a terra per 40 minuti l'ambulanza che arrivasse da Atessa perché a Lanciano non ce n'erano più disponibili fa ancora discutere. Prova a fornire delle risposte Marcello Basili responsabile della Croce Gialla che dal 1988 gestisce il servizio ambulanze delle Renzetti che è esternalizzato perché l'ospedale non ha ambulanze né il personale per svolgere questo servizio. L'ambulanza dedicata al servizio di emergenza territoriale 118 quella distanza a Lanciano era uscita per un'emergenza. Di solito quando questa autoambulanza esce la centrale 118 chiama anche a noi ma il caso ha voluto che le quattro autoambulanze dedicate al servizio interno dell'ospedale erano fuori tutte e quante. Allora la prima unità più vicina era quella di Atessa. Se non si pensa di potenziare questo servizio e le linee guida non so se vanno verso questa strada queste sono situazioni che ci ritroveremo ancora di più. L'emergenza non è uno scherzo. Quando tu sei in ospedale tu hai il medico, l'infermiere, sei tranquillo ma se succede un incidente sulla strada e entro 20 minuti l'ambulanza sono le linee guida nazionali, l'ambulanza dice che entro 20 minuti deve stare sul posto dell'incidente. Allora voi immaginate una postazione che sta a Casoli una chiamata a Palena d'inverno, ci vuole un'ora per arrivare là. Si devono aumentare le postazioni, non c'è altra soluzione. Se vogliamo essere chiamati un paese civile, se no ci arrangiamo con quello che abbiamo. Fin quando poi non tocca un potente. Intanto la gente muore però. Intanto, hai detto bene, intanto la gente muore. Voltiamo decisamente pagina a Verona. Importanti riconoscimenti per le aziende oleare abruzzesi. Tre gran menzioni per il fruttato leggero e una per il fruttato intenso. e nasce anche il primo cioccolatino all'olio d'oliva. Ce ne parlano i nostri inviati, Enrico Giancristofaro e Tommaso D'Alonso. Vinitali, ma anche sol, con l'Abruzzo presente nella promozione dei suoi oli. Tra gli oltre 200 oli in concorso arriva il premio nazionale Sirena d'Oro. Tre gran menzioni nella categoria fruttato leggero e una nella fruttato intenso. Nel settore olivicolo l'Abruzzo conta attualmente oltre 9 milioni di piante con più di 40 varietà coltivate per gran parte con metodi biologici alcune delle quali rappresentano la base dei 250 quintali di olio prodotti ogni anno e per il 90% di qualità extravergine di oliva che ne fanno la quinta regione in Italia per produzione e quest'anno 27 le aziende abruzzesi del Sol. Assessore Morofebo, difficile immaginare la nostra regione senza gli alberi di olivo difficile immaginare la nostra regione che manchi al Sol anche quest'anno in rappresentanza dei nostri produttori anche quest'anno con un prodotto di eccellenza. Un prodotto veramente di eccellenza non solo per gli attestati che abbiamo vinto, quattro importanti riconoscimenti ma oramai credo che l'Abruzzo sia qualificata su tutti i tavoli dovunque si discute siamo la quinta come produzione con i nostri 250 mila quintali ma soprattutto molti dicono, chi se ne intende, che saremmo la seconda come qualità io mi permetto di dire che secondo me siamo la prima chiaramente io sono di parte, ma anche già essere indicati come la seconda credo che sia un risultato importante come è importante la qualità che noi vorremmo sottoporre al consumatore perché non solo per come è posizionato l'Abruzzo per come sono posizionati i nostri oliveti ma io credo anche nella produzione dell'olio i nostri frantoi sono oramai diventati, si sono meccanizzati addirittura alcuni hanno i robot sono puliti come sali operatori io credo che valga la pena visitarli per capire che pochi centesimi, che poi alla fine si tratta di pochi centesimi di differenza sul prezzo non possono danneggiare un intero comparto come quello olivicolo che per noi è troppo importante e nascono anche novità e nuovi esperimenti eccone uno il primo cioccolatino a base di olio extravergine assoluta curiosità non solo olio, non solo solo a Verona ma anche Vinital il Montepulciano d'Abruzzo è tra i più venduti nella grande distribuzione e conquista il quarto posto tra i rossi preferiti dagli italiani sentiamo il Montepulciano d'Abruzzo ed è una bella notizia figura al quarto posto nella classifica nazionale dei vini più venduti nella grande distribuzione organizzata e cioè iper e supermercati con 8 milioni e 833 mila litri pari a circa 12 milioni di bottiglie il valore oltre 25 milioni di euro è emerso dall'anteprima dell'indagine sulle vendite di vino nella grande distribuzione 2010 presentata questa mattina a Vinitaly e commissionata proprio da Verona Fiere la ricerca evidenzia anche che il Montepulciano d'Abruzzo il Trebbiano d'Abruzzo e il Cerasolo d'Abruzzo sono nell'ordine i vini più venduti nei supermercati dell'Abruzzo e del Molise e che il Trebbiano è il secondo vino più venduto anche nelle Marche il Montepulciano d'Abruzzo si posiziona al secondo posto nel Lazio dopo il Chianti al terzo posto addirittura nella Toscana dei Grandi Rossi così come in Basilicata Calabria dopo Chianti e Nero d'Avola siciliana l'ambasciatrice abruzzese del vino e sentiamola a Doavilla a Doavilla che non ha bisogno di presentazioni che emozioni hai nel trovarti qui nel tuo Abruzzo assolutamente è sempre un grande piacere comunicare il vino comunicare il vino abruzzese lo è maggiormente per chi come me poi fa questo lavoro non sono in Italia ma nel mondo ormai comunicare l'Abruzzo è qualcosa di unico perché anche il feedback che c'è fuori sulla nostra regione sui nostri prodotti dal Cerasuolo bianchi autoctoni è il Montepulciano il quale non voglio dire soltanto Montepulciano Doc ma assolutamente Doc e DOCG perché insomma abbiamo una DOCG della quale ne siamo molto orgogliosi un'altra notizia importante è che l'Abruzzo si fa largo anche per quella che riguarda la produzione di brut prosecchi spumanti infatti di rilievo la medaglia d'oro assegnata a Cantina Colle Moro per questa produzione che vedete nelle immagini e anche oggi sono stati consegnati premi can grande benemerito della vitivinicoltura italiana assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole è davvero una fiera a 20 imprenditori sulla base delle indicazioni inviate dalle singole regioni per l'Abruzzo il can grande spetta ad Alessandro Nicodemi produttore di Notaresco per aver recato un determinante contributo allo sviluppo della vitivinicoltura e alla valorizzazione dell'enologia italiana auguri a lui e allora a Pescara ha aperto oggi il cantiere di riqualificazione della Riviera Nord Si avvicina la stagione estiva e l'amministrazione comunale di Pescara punta sulla riviera attraverso una serie di lavori di riqualificazione che a partire da oggi doneranno un nuovo volto al lungomare nord della città con un obiettivo creare una riviera dedicata soprattutto ai giovani come ha spiegato il sindaco del capoluogo adriatico Luigi Alboremascia Sarà bellissima è una zona in cui non risultano interventi delle amministrazioni passate da tanti anni è una riviera che oltretutto avrà una sua caratteristica cioè l'abbiamo denominata Riviera Young una riviera giovane una riviera che vuole anche andare nella direzione di quello che è un nostro obiettivo preciso del programma che è quello della destagionalizzazione cioè vuol dire praticamente rispecchiare un po' quello che è il trend di Pescara una città che non vive soltanto durante l'estate ma che ha degli spazi fruibili anche grazie a condizioni climatiche comunque favorevoli degli spazi che siano fruibili per tutto l'anno materiale di pregio la rotonda Paolucci che sarà riqualificata con una fontana molto gradevole è un lavoro di quelli contemplati nei cinque grandi cantieri che per il 2011 abbiamo ormai promosso e che oggi questo prende il via è uno di quei lavori che cambiano il volto della città sono molto soddisfatto devo ringraziare i tecnici devo ringraziare l'architetto Lepore tutti coloro che hanno collaborato il mio vice sindaco al redurbano Berardo Fiorilli perché è una grande soddisfazione oggi inaugurare questi lavori ovviamente questi lavori saranno anche contemperati con le esigenze della stagione estiva e quindi dei balneatori e quindi avranno un periodo di interruzione per poi riprendere fino al completamento da settembre in poi la Fiera Nazionale dell'Agricoltura compie 50 anni orario non stop dalle 9 alle 19 dal 15 al 18 aprile nei padiglioni di Lanciano Fiera saranno oltre 250 gli espositori che arriveranno a Lanciano per la 50esima edizione della Fiera dell'Agricoltura la rassegna che si terrà dal 15 al 18 aprile nei padiglioni del Consorzio Autonomo in Te Fiera di Lanciano è stata presentata dal Presidente del CDA Domenico Cirulli e dal Direttore Generale di Lanciano Fiera Ciro Pasquini siamo soddisfatti ha commentato il Presidente Cirulli per essere riusciti ad allestire in questo anno speciale per la Fiera dell'Agricoltura una rassegna di buon livello nonostante le ben note difficoltà ai quattro tradizionali settori allevare e coltivare omnia verde e servizi all'impresa si aggiungeranno anche quest'anno i saloni specializzati di Uva Viva Mondo Verde Olive Expo e Transport la Fiera dell'Agricoltura sarà aperta al pubblico con orario non stop dalle 9 alle 19 nutrito il programma dei convegni che arricchiranno la rassegna fieristica di momenti di riflessione e aggiornamento il Direttore Ciro Pasquini Parleremo di vitivicoltura del mondo oleario e poi soprattutto ci sarà un convegno dove si parlerà del futuro dell'agricoltura come dire una rassegna sempre al passo con i tempi che guarda sempre al domani e mai si guarda indietro e poi venerdì pomeriggio avremo un momento come dire un momento del ricordo perché premieremo come consiglio di amministrazione e come soci gli espositori che hanno partecipato a più edizioni della Fiera dell'Agricoltura quest'anno 50 anni vediamo se c'è qualcuno che ha fatto tutte e 50 le candeline quindi venerdì pomeriggio alle ore 17 ci sarà questa cerimonia di premiazione Ed eccoci al calcio domani sarà la prima di due trasferte consecutive per il Pescara che renderà visita al Piacenza Bianco Azzurri ancora in formazione rimaneggiata Rientra Zanon dopo aver saltato il crotone per squalifica ma di Francesco perde Petterini che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo Piacenza Pescara delicata sfida in chiave salvezza diretta vedrà l'assenza per squalifica non solo del terzino Exfolinio ma anche dei piacentini Bianchi e Ricler tutti fermati per un turno tuttavia il tecnico Madonna ritrova il bomber Cacia ha già 17 reti nello scorso torneo capo cannoniere davanti a Piovaccari da Cittadella a quota 16 tornando al Delfino persiste l'emergenza a centrocampo Tognozzi e Cascione ancora indisponibili anche se c'è da registrare una buona notizia da inizio settimana è tornato nei ranghi Gianluca Nicco dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso 5 marzo un recupero lampo dunque per l'ex Virgiliano dopo che nei primi momenti si era temuto un lunghissimo stop il Pescara dopo aver ritrovato la vittoria interna è chiamato ora a sfatare un tabù che comincia a pesare nel 2011 infatti in trasferta è arrivato sempre il disco rosso a Piacenza e poi nel derby di Ascoli bisognerà attingere ad ogni forza scalando una classifica che è tornata tranquilla guai però a distrarsi ancora una notizia di calcio un'altra ondata di penalizzazioni in Lega Pro di punti per violazione delle norme sui pagamenti degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei relativi contributi IRPEF ed EMPALS nei gironi delle squadre abruzzesi in prima divisione due punti al Cosenza che domenica sarà a Lanciano un punto al Foligno in seconda divisione un punto in meno al Giulianova che resta quart'ultimo in classifica con un margine di ben 12 punti sull'ultima due punti inflitti alla San Giovannese e un punto al Carpi primo in classifica questa sera l'appuntamento con il calcio su Telemax e con Muso Duro in studio come sempre Sergio Mancini e Gianfranco Semproni ed è tutto allora per questa edizione dell'ETG Max grazie per essere rimasti con noi arrivederci Grazie a tutti